Ciao a tutti e benvenuti a Miscappa risponde. Oggi andremo a trattare un argomento che potrebbe sembrare banale, mentre invece è il frutto di una intuizione, di un'esigenza che avevano diverse strutture di asili che noi abbiamo sempre fornito e continuiamo a rifornire. Parliamo oggi del packaging che contraddistingue Miscappa. Come potete vedere abbiamo sulla mia destra un packaging normale, diciamo molto più comune, una sacca in plastica contenente pannolini e qui invece il nostro packaging box. La differenza tra i due è che come potete vedere nella sacca in plastica per legge tutti i produttori sono costretti giustamente a indicare che è potenzialmente pericolosa in quanto potrebbe soffocare o comunque venire a contatto con il bambino in una situazione di pericolosità. Questo aspetto è stato di molto interesse nella fornitura di pannolini in grosse strutture di asili, di cooperative. Le maestre e le operatrici ci hanno sempre manifestato quella che è la loro paura nel lasciare magari in giro anche inadvertitamente le sacche in plastica quando cambiavano i bambini durante l'attività. Noi abbiamo cercato di far tesoro di questa indicazione e abbiamo cercato di dare una risposta che fosse veramente risolutiva a questo tipo di problema. Creando appunto il nostro box. Il box rispetto alla sacca, al packaging tradizionale in sacca si presenta come un cartone a doppio strato con quello mezzano ondulato a quattro lembi. Come potete vedere quando arriva, uno lo apre e vi sono direttamente i pannolini senza alcuna plastica o quant'altro. La domanda che nasceva spontanea alle mamme e alle operatrici sanitari e appunto alle maestre era è rispettata l'igiene in un packaging del genere? La risposta è assolutamente sì perché vengono pannolini confezionati in ambiente sterile ad ambiente appunto protettivo e il cartone appunto garantisce assolutamente l'igiene del caso anche perché poi questo cartone viene rivestito di un film estensibile che lo mantiene protetto da qualsiasi cosa durante il trasporto. Questa soluzione non va a sostituire in maniera totale quella che è la versione in sacca che chiaramente rimane più per motivi di natura commerciale che per motivi di praticità. Però possiamo affermare il successo del nostro formato box in quanto le vendite in formato box rispetto a quella del formato sacca sono dell'80%. Inoltre non trascurabile è il favore che potete fare all'ambiente in quanto non dovete smaltire sacche in plastica quindi inquinanti la maggior tranquillità appunto non averle in giro per casa quindi potenzialmente pericolose per il vostro bambino e l'altro aspetto è l'economicità perché qui non dovete pagare impianti stampa e le sacche il cartone ha un costo inferiore quindi potete anche risparmiare sul packaging e non sul prodotto. Direi che è stata veramente una soluzione vincente siamo stati premiati da voi e ci teniamo comunque appunto a metterlo in luce come aspetto e come nostra prerogativa. Se dovete scegliere, scegliete MISCAPA in formato box fate un favore al vostro bambino fate un favore all'ambiente fate un favore al vostro portafoglio. Ciao e alla prossima!